Sì, ma fino a che il sindaco giustamente non ritiene di doverli dire, o il ministro, voglio dire, ci mancherebbe, io credo che sono tenuto al silenzio. Ma sono incoraggianti per Firenze, per il maggio? Guardi, sono misure che riguardano tutte le fondazioni liriche, quindi sì, sono incoraggianti anche per il maggio. Per quanto riguarda il pareggio di bilancio e il paese di bilancio per il maggio? Guardi, il pareggio di bilancio è già stato raggiunto, quindi mi meraviglio che ancora si continui a parlare di pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio è stato raggiunto. Il maggio ha una serie di difficoltà che abbiamo detto, che sono dentro la relazione sulla gestione dell'ultimo bilancio, e che sono, uno, l'entità del debito ereditato. Perché quando si dice che i debiti sono aumentati, i debiti sono aumentati perché tutto ciò che era stato apposto a fondi dalle precedenti sovrintendenze e consigli di amministrazione erano in effetti delle perdite già certificate. Quindi, voglio dire, io non ho fatto altro che riconoscere quello che erano. Secondo, quindi, l'entità del debito, che è comune a tutte le fondazioni, chi più, chi meno, naturalmente, chi più, chi meno, naturalmente, ma è comune a tutte le fondazioni. E l'altro è un problema di tensione finanziaria. Se io le uscite monetarie le ho spalmate più o meno regolarmente durante tutto l'anno, ma le entrate ce le ho solo alla fine dell'anno o addirittura l'anno successivo, ricordo che un terzo del contributo della Regione 2015 non lo abbiamo ancora ricevuto, 1.230.000 euro giù di là, mi dovete dire com'è che posso evitare la tensione finanziaria? È come una famiglia normale. Se lei spende tutto l'anno regolarmente perché ha la sua famiglia e ha le uscite monetarie, ma le entrate monetarie ce le ha alla fine dell'anno o addirittura l'anno dopo e non si può indebitare, c'è attenzione finanziaria? Penso di sì, no? Questo vale anche per noi. Non potrebbe avere questa assicurazione, diciamo, dagli enti pubblici? Che c'entra l'assicurazione? Bisogna avere i soldi, non l'assicurazione. Visto che c'è stato un incontro del Presidente e della Fondazione con il Ministro... Domandate a loro, non a me.